Benvenuti a questo evento in cui celebriamo il signor Fran Crainieri. È un piacere essere qui. Credo che Don Fran non necessita più di nulla per dirgli il grande amore che sente per la sua amata patria di origine, Italia. Molte grazie. In virtù dei poteri conferitemi dal signor Presidente della Repubblica, ti insegnisco dell'honoreficenza dell'ordine della stella d'Italia nel grado di comandatore. Per me rappresenta la reafirmazione, il compromesso che ho sempre ho avuto con la mia patria italiana di continuare fortalecendo i sociali, economici e culturali con la mia patria dominicana, honrando così l'intrinsico significato che riviste l'ordine della stella d'Italia. Grazie a tutti.